bella ragazzi sono melloflame perciò qui con un nuovo video siamo sempre con me e di babi bella bella a tutti allora spieghiamo siamo qui sotto le pop store partiamo subito bene ragazzi migra subito l'host ma ragazzi siamo tornati subito senza starmi eccoci qua ma anche da qui adesso a posto mi è un po strano è solo per voi per voi siamo qui su ai giang da ragazzi una delle mappe forse più belle di black ops due marloflame è pronto per darvi massaggio della sua potenza ragazzi purtroppo come anche un po sumorfer 3 su black ops la pone insieme come vedete appunto parecchio e noi ne abbiamo abbondante di promessione come potete vedere dall'infumerevole decisione di marloflame ci ha messo 30 anni quello lì a morire ma non ci scoraggiamo ragazzi marloflame non uso mai coltello perché non mi serve no è già potente di tutto un po caotica diciamo come in partita esatto come sempre marloflame comunque regala sempre emozioni anche quando muore soprattutto quando muore e sono di quelle morti che veramente sono di un'etizia quindi non si vede una velocità d'azione impressionante l'ultimo che erano di un'ambiente infatti sono partiti bene però si può sempre migliorare si parte dal fondo per poi risalire ragazzi ah ecco sentilo il filosofo ok! quindi praticamente marlo in questo caso rappresenta l'italia l'italia vs vs world è certo è appena rappresentando l'italia un'italia di merda ovviamente eee con la nostra merda con la connessione uber power cerchiamo di sconfiggere i connessionati C'era Masso lì, è arrivato uno. I riconnessionanti hanno predominio. I riconnessionanti rappresentano l'America. Ogni tanto però anche l'Italia uccide qualcuno. Ogni tanto. Quindi se l'Italia dovesse andare in guerra contro gli Stati Uniti. Sperano di essere alleati magari. Sarebbe comunque... una risposta. A parte di... Oppure se gli alleati sarebbe una risposta per noi. Che c'era troppo scarsa. Porteremo solamente mano d'opera e vale. Esatto. C'è un peso. Loro con 2-3 bombette e noi siamo già fuori. Obama con i ben flussaltoni rossi che ha sotto la scrivania. Potrebbe tranquillamente far fuori questa connessione. Tanto quando il frame è un po' contrariato da queste decisioni. Queste morti. Un po' così. Così random. Noi lo capiamo. Tutti hanno la qualità di Sarebaldrop 09. Lo capiamo benissimo. Però... ... ... ... ... sopperire a queste mancanze tecniche e tecniche. Esatto. Ecco infatti. E con questa morte l'avrebbe sicuramente evitato. Se avrebbe avuto la passione o no. Esatto. ... ... ... ... ... Black of Two ormai ragazzi... ... ... ... ... ... è difficile perchè non ha una buona connessione necessaria ah però primo della squadra primo round terminato con una sconfitta sconfitta attenzione il finale ragazzi attenzione guarda il colpi era un po' anche questo avrà una grande connessione anche lui 4 colpi con il silenziatore ha morto bene questo fa bene sperare anche Barlow flame bene quindi a quanto pare non era finita il primo round ma era finita effettivamente la partita comunque siamo contenti di questo video che vi abbiamo portato Marlow flame ovviamente allora ragazzi abbiamo deciso di proporvi un'altra partita perchè questa diciamo che non era delle migliori non era delle migliori perché Marlow flame non era molto in forma ricordiamo che ha preso una medicina prima di giocare quindi non è proprio alterato le sue azioni condizioni musichiche mesali non sono impulsive non sono al massimo non sono proprio reattive cercheremo un'altra partita un'altra mappa abbastanza decente come vedete troviamo le partita con le città di PAMAGE eh si come potete vedere ho un po' di giocatori mancati ma sono dettagli eh grazie come potete vedere come potete sentire ci sono anche giocatori da altri pianeti si raggiungono del sistema solare cap time si raggiunge da venere e l'altro e invece l'altro da Marte guarda in casa disattiviamo le voci di questi alieni e si parte con un'altra mappa abbastanza carina dai standoff vedremo un po' Marlow flame cosa sarà per regalarci che emozioni trovare le rovine di standoff Marlow flame si accingeva a sconfiggere il mondo esatto siamo pronti ragazzi con Marlow flame e carico come sempre lo so come potete vedere ma nel volto si vede la grinta di un vincente carico stiamo a copieno ragazzi cosa cazzo è ricordiamo che prima ha perso la sfida man vs spurt man vs spurt spurti subito con i piedi giusto però adesso ce li faremo senti i colpi che erano morati davanti ricordiamo che le morti non sono per forza negative sono uno spunto da cui crescere per le prossime partite eh beh eh si quindi Marlow flame che muore tanto arriverà un giorno o nel lontano 2000 non ci sa a fare solo kill esatto quindi mi raccomando iscrivetevi si sfondanzaci di like di like perchè appunto abbiamo bisogno dei big money per migliorare la qualità e quindi anche con cui Marlow poi si potrà esercitare e migliorare le sue abilità tecniche esatto ovviamente però dovete rimanere iscritti fino a quelle 2000 non ci sa vabbè si quindi per sicurezza iscrivetevi e rimanete iscritti con tanti pollicioni su fino a quella data c'è da dire che il nostro canale c'è da dire che anche il nostro canale quello di Marlow flame è probabilmente l'unico canale in Italia a non avere dislike fino adesso fino adesso quindi ragazzi incredibile è un nuovo record mondiale abbiamo presentato abbiamo portato infatti guinness dei primati volevamo appunto un posto nel libro e sarebbe stato un grande record per noi tra poco ci arriverà anche la targhetta di youtube esatto per i 27 iscritti che abbiamo raggiunto è vero abbiamo raggiunto i 27 iscritti di recente quindi vi ringraziamo vi ringraziamo molto è davvero perfetto ci dimostrate che i nostri commenti sempre positivi vi chiediamo anche di diminuire un po' la quantità di commenti che sono un po' troppi esatto e non riusciamo a leggerli tutti e probabilmente tra qualche anno ne includeremo anche le FAQ quindi vi raccomando e mettete sotto nei commenti le domande a cui volete che noi rispondiamo ovviamente restate sempre con noi che Marlow flame regala sempre emozioni anche quando muore come in questo caso però non preoccupatevi verranno come si dice i tempi migliori giusto? eh si quando ci trasferiremo dove c'è la fibrotica e la bosse qualcosa no a mezzo dopo una grande tempesta le da sempre il bel tempo e con questo direi che si può più dire anche con la spalla di saggezza di questa sera di nostro editor e tecnico e tecnico ragazzi incredibile che sta discutendo devo dire molto successo su una nuova rubrica vi consiglia sta facendo molte views nel canale nel canale ma questa è una associazione non si accorge questo classico camper classico camper ragazzi stai scontendo appunto molto successo con questi nuovi video pavi sappiamo che è molto amato dai nostri fan esatto e mi fa molto piacere vedere tutte quelle video e tutti quei like nei miei video nella rubrica esattamente e ovviamente sappiamo che la rubrica continuerà fino a fino a data da definirsi finchè voi mostrete interesse per la rubrica ovviamente continuerò a fare appunto i giochi più svariati e appunto con i vostri commenti potrete consigliarmi che giochi vuole che faccia però appunto visto che la rubrica che si chiama vi consiglia io prima di tutto vi consiglierò di mio qualche gioco però dopo quando arrivaranno i momenti in cui fare non sapere più cosa fare sono finiti i giochi e a quel punto intervenrete voi esatto ovviamente non va data spese anche giochi che costano perchè noi abbiamo un budget appunto elevato ovvio possiamo anche ci consente appunto di comprare giochi anche a prezzi elevati massimo 1 euro e 99 massimo perché massimo 1 euro e 99 perché dopo risorse economiche non ci permettono di di andare oltre perché altrimenti non potremmo più venire da Maroclame diciamo sera e quindi ci fa piacere insomma il vostro affetto ragazzi quando arriverà la targhetta io in prima dei set iscritti faremo uno speciale con cui ve la faremo vedere ovviamente la targhetta e ovvio fai la persa anche questa e questo è molto contenti anche a Maroclame perde anche questo ragazzi ma ve l'abbiamo già detto arriveranno anche i migliori bene speriamo che questo video non vi sia piaciuto lasciate un like per consolazione esatto fate felice un po' la Maroclame senza vittorie le storie certo ma che diamo questo video più triste della storia vabbè ci abbiamo diriziato però con le nostre esatto belle di saggezza esatto vabbè prossimo video bye a tutti le Maroclame che conoscevi mi piace bye a tutti bye è bella buon ciao bella è bella oh